per il premio finale Silvante con questa seconda finale pressa e distanza ancora una enorme differenza di statura questo è l'opera ottimo a fondo sinistra di Sascha si aggiunge dal primo punto restituisce il segno di Stagliso di Sascha uno pari non c'è una tendenza un laterale blocca il colosso inglese due a uno ancora non c'è la Sascha prevene in segna ma un punto a testa per la ragazza di Grisasta accorcia e pareggia in distanza Grisasta tre panni 50 secondi a tempo si studiano si studiano batte il tedesco ma viene punito guarda che sta avviso dall'altra età inglese guarda qui a 30 secondi da terra guarda la sosta da murale che a piccola potere tecnica che si assegna un contro chiunque un lavoro a domico la situazione parte rinascita 10 secondi alla fine tolto il pari 5 secondi parto ad entrambi un punto a testa finisce così si ricomincia dalla parità 5 pari 1 minuto extra time di nuovo a confronto il piccolo tedesco contro il gigante inglese battaggio Chris Huston 6-5 35 secondi ancora la segna Chris Huston 7-5 si allunga le distanze ancora un altro punto per la pista lì solo 8-5 25 secondi ancora il piede si allunga 9-5 sembra ormai impossibile dare un'ora da parola di Sasha 5 punti di differenza a 10 secondi alla fine e possiamo già dichiarare che Chris Huston sarà il prossimo finalista per la categoria Open Point Fighting Cup tempo Now we're at and the seventh finalista from the UK Chris Huston E' chung'